Ciao, che bel biondo che hai, come ti chiami? Kevin Ti chiami Kevin, che bel nome Kevin Senti Kevin, quanti anni hai? Cinque anni Senti, scommetto, scommetto che tifi per la Roma Tifi per la Roma, infatti vedo che hai la dota della Roma Scommetto che hai qualche regalo da chiedere a Babbo Natale Me lo vuoi dire così glielo diciamo poi a Babbo Natale? Vuoi un robot, un robot che fanno in televisione Ok, ha un nome specifico questo robot, come si chiama? Emilio Emilio, che è quello delle tartaruga ninja? No No, non è lui, ok Poi? Hai qualcos'altro da chiedere? Ok In televisione ho visto un tostapane Un tostapane che è un giocattolo Un tostapane, va bene È un regalo un po' particolare, ok Poi, oltre il tostapane È... Acchiappa la polpetta Ma ti piace cucinare per caso? No No, però vuoi il tostapane e acchiappa la polpetta Ma è Natale? Certo che è Natale, è quasi Natale Quindi il 22 poi ci sarà Babbo Natale Ok, quindi Fatti i cinque E sempre forse a Roma, ok? Ok Ciao, Kevin A pandb Programmi Our socials A technology Grazie mille Ma On Sop Grazie a tutti.